Buongiorno, buon inizio di weekend, bene ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Udinese TV. Diamo subito un'occhiata alle webcam, vediamo com'è la situazione sulla nostra regione in previsione del punto della situazione sul meteo che ci farà tra poco Elisa Febbo, ma intanto eccole qui le immagini che arrivano, queste sono dal Monte Lussari con tanto sole all'orizzonte, il cielo è libero dalle nubi, ma si nota anche la tipica colorazione dell'umidità. Forni di sopra, andiamo, cambiamo, qui siamo a Tarvisio, siamo sul Monte Lussari, forni sopra, eccola qui, come potete vedere le condizioni meteo sembrano oggi essere sicuramente favorevoli per iniziare un bel weekend all'insegna del tempo da trascorre all'aria aperta. Andiamo a continuare ancora con le altre immagini, qui siamo su Sapada, una cappa di umidità che si, come vedete, avvolge gli alberi e chiudiamo con Lignano, vediamo la situazione sul litorale ed anche in questo caso il tempo, sembra essere assolutamente buono. Allora andiamo con Elisa Febbo a fare il punto sulla regione, le previsioni meteo per oggi. Ben trovati a questo nuovo appuntamento meteo del Friuli Venezia Giulia di sabato 1 agosto. cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con caldo intenso e molto affoso su pianura e costa. Possibile qualche temporale, più probabile sui monti e dal pomeriggio. Vediamo assieme le temperature. Sulla costa le minime saranno comprese tra 24 e 27 gradi, le massime fra 30 e 34 gradi. In pianura le minime saranno comprese tra 22 e 25 gradi, le massime fra 35 e 38 gradi. A mille metri 23 gradi, a 2.000 metri 17 gradi. Andiamo subito sulle notizie, vediamo quali sono le principali notizie di questa mattina, le ultime ore. Cominciamo dall'agenzia ANSA, dove in apertura c'è l'approfondimento sull'epidemia da coronavirus o con i casi che salgono. Siamo a 379 nella giornata di ieri in tutta Italia. L'Istituto Superiore di Sanità ha calcolato che l'indice RT è sopra 1 in 8 regioni. Situazione dunque da tenere sotto osservazione. 9 sono le vittime, persiste una trasmissione diffusa dal virus. L'RT nazionale è al di sotto dello 0,98 come media, ma in Veneto ci sono dei focolai nel Trevigiano, in Piemonte i casi sono raddoppiati in una settimana. Il Veneto all'indice più alto con 1,66, mentre l'Unione Europea prenota 300 milioni di dosi del vaccino con Sanofi. Andiamo a vedere invece, le ultime ore arrivano dagli Stati Uniti. Intanto per quanto riguarda la lotta a TikTok, Trump è pronto a varare un decreto per vietare l'acquisizione dell'applicazione da parte di Microsoft. Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore varerà un decreto per vietare TikTok, la popolare app basata negli Stati Uniti, ma di proprietà cinese. TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, dice il Presidente degli Stati Uniti. L'altra ultima ora che arriva sempre dagli Stati Uniti si riferisce invece ai contagi da coronavirus che hanno raggiunto le 1.442 vittime in 24 ore negli Stati Uniti e poi in totale 153.268 morti con altri 69.000 positivi. Questo è il quadro della situazione. Come potete vedere negli Stati Uniti, secondo quanto ha riportato la John Hopkins University, per il quarto giorno consecutivo i morti per la pandemia hanno superato i 1.200 in totale. Si contano 153.268 vittime con quasi 70.000 casi di positività. Nell'ultime 24 ore gli Stati Uniti raggiungono 4 milioni e mezzo di casi dall'inizio della pandemia. questi numeri spaventosi che arrivano dagli Stati Uniti dove il virus non accenna a dare tregua, forse perché l'approccio, la gestione da parte degli Stati Uniti è diversa, è stata diversa rispetto a tanti altri paesi, compreso il nostro. Qui siamo sul Tgcom 24 dove il titolo di apertura è quello su TikTok, abbiamo visto anche nell'ultima ora e poi per quanto riguarda l'ultima ora delle 7, la testata diretta da Paolo Liguori parla di gran caldo e di bollino rosso con allerta caldo, sono previsti addirittura 45 gradi in Sardegna. Adesso andiamo sui giornali, vediamo quali sono i principali argomenti trattati sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina a partire dal Corriere della Sera, timori per i nuovi contagi e dunque proprio il rischio di un innalzamento dei contagi generalizzato, il titolo di apertura del Corriere della Sera, il richiamo di Mattarella, libertà non è far ammalare gli altri, è intervenuto dunque anche il Presidente della Repubblica per far riflettere su questo argomento. Bolsonaro il Covid, il Presidente del Brasile, ho la muffa nei polmoni, il leader ancora in cura, ora è positiva anche la moglie che vediamo in foto qui con lui. Andiamo a leggere la Repubblica, ritornano i contagi sui treni, basta distanziamento, scienziati contrari, è un pericolo, indice di sicurezza superato in 7 regioni, crescono i focolai, appello di Mattarella, la libertà non è far ammalare gli altri, effetto Covid, pil giù del 12,4% ma l'Italia non è più in fondo all'Europa, da energie e pubblicità, prima spinta ai consumi, come potete vedere si parla quindi di Covid, si torna a parlare di Covid in maniera abbastanza più presente sui giornali, da qualche giorno a questa parte. Reportage dalla Tunisia, che Libia, la spiaggia della fuga, qui si muore di fame, il reportage dell'inviato della Repubblica, Vincenzo Nigro, sulle coste tunisine, dove partono i barconi con i migranti, ed eccoli qui i migranti, oggetto del titolo del gazzettino, 100 migranti, alta tensione, tre viso nell'ex caserma, i migranti protestano per l'isolamento, infermeria distrutta, letti in aria, zaia, quell'area è zona rossa, ma tifo perché si svuoti, tutte le strutture così vanno dismesse. Poi si parla dello stop al distanziamento sui treni con il comitato scientifico che però è contrario, gli esperti frenano, il CTS non è stato consultato nel merito, leggiamo qui in questo passaggio sul gazzettino e poi in Lombardia, per quanto riguarda lo scandalo che ha investito Fontana e il cognato per i camici prima acquistati, poi donati, con dei soldi che sono passati da una parte all'altra, in Lombardia c'è l'ipotesi di un rimpasto per commissariare Fontana, i timori del confronto col Veneto, verifiche dei pubblici ministeri sul prezzo dei camici. Andiamo a vedere il giornale, toghe impazzite in giustizia di Stato, Berlusconi il suo giudice doveva essere franco, Salvini il governo era d'accordo ma paga solo lui, Fontana sulle zone rosse decideva l'esecutivo. E poi andiamo a vedere qui il mezzo, la parità di genere è una norma omofoba, il provvedimento contrasta il DDL ZAN. E poi le notizie di economia, PIL a picco, meno 12% ma PD e 5 Stelle litigano sul MES, ed è quella qui la notizia dello stop ai distanziamenti sui treni, polemica e rischioso. Andiamo a vedere adesso libero, gli italiani se ne infischiano e vanno tutti al mare, agosto covid mio non ti conosco, dopo tre mesi di reclusione domestiche cittadini invece di lavorare si precipitano in vacanza, altro che crisi, a ferragosto località balneari piene di prenotazioni, entro questo mese previste 200 mila assunzioni, 798 mila per fine ottobre. E poi andiamo a vedere qui centropagina giuristi e intellettuali, no all'abuso dei pieni poteri, quelli che si sono stufati di Conte. La verità, importiamo ancora malati, la sinistra spalanca le porte, contagi stabili e in moltissimi casi legati agli immigrati e i giallorossi cambiano i decreti sicurezza dopo il voto. Per agevolare gli ingressi il Consiglio di Stato aiuta Conte per ora restano segreti gli atti del Comitato Scientifico, prudenza sì ma basta terrore, ricoveri, morti e terapie intensive ai minimi. La fotonotizia qui al centro, Open Arms, Tria e Toninelli scagionano Salvini, altra beffa sulla Cassa Integrazione, c'è un buco di un mese, topica del governo, cassa fino a novembre, ma non si può licenziare per tutto il 2020, tranne chi chiude. La stampa, Mattarella, lezione ai no mask, non c'è libertà di contagio. Le parole del Presidente della Repubblica. Poi la foto dei migranti sui barconi, l'ite sui decreti sicurezza del Rio dice ora lo Ius Cultura e qui vediamo il quadro della situazione riassunto in questa foto con migranti soccorsi in mare, tutti indossano la mascherina, ma come abbiamo potuto vedere purtroppo tanti casi di contagi di questi giorni fanno riferimento proprio agli immigrati. Il foglio al centro pagina in colore rosso, le balle di Salvini e la clemenza dovuta, qui si parla del processo per la vicenda Open Arms, sotto la testata vaccini contro i nemici del mercato perché la capacità di coltivare la cultura del rischio passa dal pazzo incrocio tra lo Stato e la borsa italiana. Il manifesto? Eurospil. Crollo storico del Pil nella Unione Europea per effetto del Covid. I dati drammatici pubblicati da Eurostat relativi al secondo trimestre 2020. La crisi peggiore investe la Spagna con meno 18,5 seguita da Portogallo e Francia. L'Italia frena, ma per quartieri stime migliori delle attese. La sinistra riscopra l'inclusione. Parla Pierluigi Bersani, intervistato dal manifesto, intervista al cittadino illustre di Piacenza, dai problemi dell'arma a quelli del mondo di sotto. Fatto quotidiano, zona rossa a Lodi, ancora sbugiardati, Fontana e Gallera, non solo al Zano. Dicevano, abbiamo chiesto a Conte di chiudere altri dieci comuni. Ci ha risposto che non si poteva. Ora c'è la prova che nessuna richiesta arrivò al governo. Abbiamo visto su un altro giornale, invece, la notizia viene riportata in altro modo, per quanto riguarda la famosa polemica sfociata poi in indagine sulla gestione della pandemia in Lombardia. Qui siamo su Sole 24 ore, Pilla, meno 12,4. Conte accelera il piano dell'Unione Europea. Vediamo, invece, per quanto riguarda le borse, Londra vende borsa italiana, ipotesi di cordata tricolore per rilevarla. Cattolica cambia pelle e diventa S.P.A. ed ora è pronto l'ingresso di generali in Cattolica a settembre, l'aumento da 300 milioni per l'operazione con Trieste. Abbiamo chiuso per quanto riguarda i giornali nazionali. Adesso ci spostiamo sui quotidiani locali. Cominciamo dal messaggero di Udine. L'apertura è per il crollo del PIL. Meno lavoro, PIL in calo, bruciati 2,4 miliardi, contrazione del prodotto interno euro del 7%. Nei primi sei mesi esplode la cassa integrazione. Abbiamo parlato anche con l'assessore regionale Barbara Zilli, che abbiamo intervistato ieri sera proprio per parlare di situazione finanziaria della regione per quanto riguarda i provvedimenti assunti dal Consiglio regionale, votati dal Consiglio regionale, assunti dalla giunta del Presidente Federica e poi per parlare anche della situazione del tessuto economico produttivo con i dati che abbiamo appena letto anche sul messaggero, ma di cui abbiamo già parlato ieri. E qui invece la notizia che arriva da Gemona, anche in questo caso, una notizia che abbiamo dato ieri nel nostro telegiornale, tra i tre positivi di ieri, due nell'area del Porto Edonese e uno nell'area dell'Udinese, c'è Van Nikerk, il campione oroolimpico che si sta allenando a Gemona ed è il risultato positivo al coronavirus. Lui e tutti i componenti della sua nazionale sono stati messi in isolamento all'hotel Willy di Gemona, come prevede la nostra normativa e prima di potersi poi impegnare negli allenamenti, sono risultati negativi a una serie di tamponi, a quello di ingresso e al primo tampone effettuato qui a Gemona, Van Nikerk invece è risultato positivo, solo lui, gli altri sono tutti negativi, Van Nikerk è risultato positivo al secondo tampone, c'è da dire che Van Nikerk è assolutamente asintomatico. Altre notizie di spalla, i muetari in 5 mila non hanno pagato, mancano 4 milioni all'appello del comune di Udine e poi ai giardini di caso è stato imbrattato anche il monumento di Vittorio Emanuele, si parla ancora del caso di Premariacco, il giudice e il sindaco usa i soldi del comune come se fossero suoi ed infine tarcento in lutto per Nazareno Menis, politico e sportivo. Andiamo a vedere la pagina di Udine, l'apertura della pagina dedicata, della dorsale dedicata alla città di Udine, alla cronaca di Udine, sono più di 5 mila i cittadini che non hanno pagato i muettari, quest'anno a causa dell'emergenza Palazzo D'Aronco stima altri 4,3 milioni di mancati introiti, la foto è quella dell'assessore Laudicina, abbiamo approvato anche i nuovi regolamenti con novità positive per i cittadini, ma intanto c'è questa situazione che vede gli Udinesi aver saltato il pagamento, una parte degli Udinesi naturalmente, qualcuno, buona parte, ha pagato regolarmente. Meno lavoro, pilli in calo, bruciati 2,4 miliardi, il titolo è uguale sul messaggero edizione di Pordenone che però nella fotonotizia sotto il titolo di apertura dà spazio al Pordenone, ieri il pareggio a Cremona, 2 a 2, vantaggio 2 a 0 raggiunto poi il Pordenone, ma il Pordenone va direttamente in semifinale pre-off, ha conquistato il quarto posto che permette di saltare un turno e questo è sicuramente molto importante perché la squadra di Tesser si potrà riposare in attesa di poter giocare poi i play-off. Andiamo avanti, andiamo su Pordenone, il Covid riduce gli spazi, Zanussi, iscrizioni, respinte, dirigente in media devo dire no a due studenti al giorno, non abbiamo spazi, intanto scoppia il caos delle graduatorie, è impossibile collegarsi col Ministero, Comune e dirigenti pronti all'intesa dall'asilo fino alle medie per quanto riguarda le scuole dell'obbligo e si sta parlando molto in questi giorni di come verrà organizzata la scuola quando si ripartirà, speriamo a partire dal mese di settembre quando è stato calendarizzato appunto il momento del ritorno in aula o in didattica a distanza, si parla per alcuni istituti di classi spaccati in due, metà a casa, metà in aula e poi con l'alternanza dei periodi, staremo a vedere. Andiamo sul Gazzettino, abbiamo visto già l'apertura con i titoli nazionali del quotidiano diretto da Roberto Papetti, andiamo a vedere altre notizie che riguardano anche il nostro territorio e il Triveneto in generale. Marco Tamaro, addio al direttore della fondazione Benetton, scomparso all'età di 61 anni dopo una breve malattia, la notizia riportata qui sulla prima del Gazzettino, da quest'altra parte invece per quanto riguarda Exilux e Safilo, ripartenza estiva dopo l'emergenza, a quanto pare non ci saranno altri licenziamenti, altri esuberi e questo lo ha detto anche chiaramente la Safilo, la semestrale assegnato conti appesantiti dal sostanziale blocco delle vendite per i tre, per tre dei primi mesi dell'anno i segnali però lasciano ben sperare e questo lascia ben sperare anche per quanto riguarda l'occupazione. Vediamo invece la situazione del Veneto e dei Focolai che sono 45, Zaia dice stop alle caserme, il governatore di smettere i centri di ospitalità, un fallimento, Lorenzoni accoglienza diffusa, il leghista, Salvini voleva solo mettere ordine, prorogati al 15 ottobre gli ultimi tre povedimenti. Questa invece è la foto del governatore del fluido Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, che decide invece di ampliare il pubblico per sport e spettacoli, questo potrebbe essere propedeutico anche all'apertura degli stadi a partire dalla prossima stagione sicuramente, e cioè a partire dal campionato 2021-2022. Andiamo sulla pagina del Friuli, bus e corriere, 20 milioni di perdite, mancati di cavi da traffico stimati per fine anno, per Udine si tratterà di quasi 7-8 milioni in meno. La D semplice, non andremo in pari neanche con i rimborsi statali, ma le aziende sono solide, nel 2021 non torneremo ai numeri pre-Covid. Ci si è spostati di meno naturalmente, quindi tutto questo si è abbattuto sulle entrate. Migranti, ora Udine chiede i trasferimenti. Fontanini, bene i valichi minori chiusi, ma la caserma va alleggerita a fine quarantena. In caso di Premariacco, abbiamo elementi solidi in mano, dicono i giudici che stanno indagando sulla condotta del sindaco di Premariacco Trentin e degli altri indagati. Si parla di calcio, l'Udinese in cerca delle ultime gioie, domani al MAPE Stadium con il Sassuolo, l'Udinese chiuderà la complessa stagione condizionata alla coronavirus. Già salvi i bianconeri, per quanto affaticati e acciaccati, cercano le ultime conferme in una partita che per alcuni sarà l'ultima con la maglia friulana. Questa è la prima pagina del Gazzettino, del Friuli. Andiamo a vedere invece lo sport, apriamo dunque la pagina sportiva, facciamo subito un passaggio sull'Udinese per andare poi a vedere del Pordenone. La fatica è il primo avversario, il Sassuolo è galvanizzato dal 5-0 rifilato al Genoa, mentre tra infortunati acciaccati, la rosa friulana ai minimi termini, ciò che non potrà dare sul piano fisico, l'Udinese potrà dare sul piano mentale per chiudere al meglio la stagione. Seco Fofanà è tra i calciatori che più si è speso in questa fase della stagione, per il centrocampista paragonato a Pogba in campionato 31 presenze, 3 gol e 7 assist. Allora vediamo anche sul messaggero di Udine alla pagina dell'Udinese, poi archiviamo l'argomento Udinese per passare dunque alla Serie B, che ieri ha giocato l'ultima giornata della stagione regolare. Udinese ha fatto un brindisi con Gotti, nei prossimi giorni la firma sul contratto, vedremo come finirà, ma sono ben avviati i contatti per confermare l'allenatore e qui poi ci sono notizie di mercato assolutamente non confermate, quindi non c'è assolutamente nulla di definito per quanto riguarda questa situazione e tante altre. Capiamo che questo è il momento delle voci di mercato, del cosiddetto radiomercato, ma parlare in questo momento di Kensema che torna al Watford è assolutamente prematuro, non c'è assolutamente nulla. Kensema è un giocatore del Watford, quindi tornerà al Watford dal punto di vista dello status contrattuale, del tesseramento, perché è in prestito a Udine, ma ciò non vuol dire che il prossimo anno non lo rivedremo in maglia bianconera oppure altri sviluppi di mercato, ma in questo momento dare per scontata questa operazione di ritorno al Watford è una notizia affrettata, quantomeno affrettata. Parliamo adesso invece del Pordenone, facciamolo andando subito a vedere il titolo qui sul Messaggero, il Pordenone subisce un'altra di Monta, ma il quarto posto è salvo, i neroverdi avanti con Tremolada e Burrai, si fanno riprendere da Gaetano, in semifinale tessera affronterà la vincente della sfida Cittadella-Frosinone. Andiamo a vedere le immagini di questa partita, andiamo a vedere come si è sviluppata la gara a Cremona, andiamo a vedere la prima azione che porta all'incursione in area e al calcio di rigore che viene trasformato da Tremolada e siamo al quarto d'ora del primo tempo. Ecco qui, vedete. Poi la Cremonese che nel secondo tempo con Gaetano pareggia i conti, va sull'1 a 1, la formazione grigio-rossa vanificando la rete di Tremolada del primo tempo e poi tutto il resto succede ancora nel secondo tempo con Burrai che va a completare l'azione con una bella conclusione dalla distanza infilando la porta di Fiesa da Volpe per la rete del 2-1 che sembra indirizzare il Pordenone verso la vittoria ma siamo soltanto al terzo minuto del secondo tempo. Arriva una grande parata di Di Gregorio che nega il gol del pareggio alla Cremonese-Cremonese che insiste e ancora con Gaetano trova la rete del 2-2 definitivo. Era una partita fra due squadre che avevano obiettivi diversi, il Pordenone conservare il quarto posto, la Cremonese nessun obiettivo perché aveva già conquistato la salvezza ma è stata comunque molto bella, ancora una gran parata di Di Gregorio. Avete visto che ha tolto la palla dal 7 alla sua destra che poteva essere la rete della clamorosa beffa per il Pordenone che invece ben si è comportato a Cremona. Andiamo a vedere il quadro completo dei risultati di questa giornata di Serie B, ultima giornata del campionato, ultima giornata della stagione regolare. Eccola qui. Allora Ascoli-Benevento, il Benevento ha vinto 4-2, non fa sconti la formazione di Inzaghi. Il Chievo batte il Pescara 1-0 condannando il Pescara ai play-out. Cosenza 3, Juve Stabbia 1 con il Cosenza che si salva e la Juve Stabbia che va in Serie C. Cremonese e Pordenone finita 2-2, Frosinone-Pisa 1-1 con il Frosinone che centra l'accesso ai play-off d'un soffio a scapito proprio del Pisa. E poi Livorno-Empoli, l'Empoli vince 2-0 ed è nei play-off anche la formazione toscana. Quindi Salernitana-Spezia 1-2, lo Spezia era terzo in classifica, terzo rimane con la Salernitana che invece scivola fuori dalla zona play-off. Poi Trapani-Crotone 2-0, Intella-Cittadella 2-3. Il Venezia batte il Perugia e chiude dunque molto bene il campionato, il suo campionato di Serie B. Vediamo 86 in Serie A insieme al Crotone che ha chiuso a 68 punti. Ai play-off vanno Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli e Frosinone. Questa è la situazione, c'è qualche errore nella nostra classifica perché il Pisa non è lì, il Pisa dovrebbe essere al nono posto. È semplicemente un problema, siccome sono tutti a quota 54, è un problema di grafica, ma il Frosinone e l'Empoli sono ai play-off, non entra invece il Pisa così come la Salernitana, tutte le squadre che erano in corsa. Da quest'altra parte Pescara e Perugia ai play-out, mentre il Trapani, la Juve Stabbia e il Livorno finiscono in Serie C. Il Livorno lo è già da un pezzo. Andiamo a vedere anche sul gazzettino il titolo per quanto riguarda il Pordenone. Eccolo qui. Ramarri maturi per la Serie A con la Cremonese un 2-2 che porta alla semifinale play-off al gol di Tremolada e Burrai replica la doppietta di Gaetano. Le note negative riguardano gli infortuni, prima Barison con un problema linguile, poi Strizzo alla caviglia, sono usciti anzitempo. Il Pordenone tornerà in campo il 9 agosto per la gara d'andata con la vincente della sfida del 5 agosto tra il Cittadella ed il Frosinone. Quindi un po' di tempo a disposizione di Tesser per far riposare i suoi, mentre le altre dovranno a scendere in campo il 5 agosto per le gare di semifinale. Per quanto riguarda i giornali, adesso ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport per vedere la pagina dedicata all'Udinese, dedicata quest'oggi a Fofanà, con una bella intervista realizzata da Velluzzi, intervista Francesco Velluzzi, nella quale Fofanà fa capire che desidera nuovi stimoli e quindi in pratica lancia un messaggio, cioè vorrebbe andare a giocare altrove per trovare nuovi stimoli, altri obiettivi, dice di non pensare ad un ingaggio alto, ingaggio superiore, piuttosto a nuovi obiettivi. Vedremo, certo, Fofanà con Depol sono i due elementi più ricercati dell'Udinese sul mercato. Vediamo le prime pagine dei quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, Signora Cepirlo, grandi manovre in casa Juve, Agnelli investe sul grande ex, nuovo tecnico dell'Under 23, un giorno Sarainà, manda messaggi a Sarri, va passato il turno in Champions e poi il Lione perde in Coppa e Rigorio, oggi allo Stadium, festa Scudetto e la Roma. Sotto la testata, regali per Conte, l'Inter seconda e l'Europa League, poi avanti tutta sul mercato. Caso Ilicic, tra paura e stress, ha smesso di giocare, il fenomeno di Gasperini ha lasciato Bergamo e tornato in Slovenia per ritrovarsi. Tutto sport, Pirlo studia da Sarri, Agnelli progetta un futuro in prima squadra per il nuovo tecnico della Juventus Sander 23, in Europa abbiamo esempi di grandissimi che hanno seguito questo percorso, stasera festa Scudetto con la Roma, occhi su Zaniolo, CR7 messo a riposo, console Cairo, muro contro muro, chiamato dal consulente dei candidati acquirenti, il patron del Torino non ha risposto e dice non incontro nessuno, non ha intenzione di trattare per la cessione. Spareggio Dea-Inter per il secondo posto, la Lazio spera e poi Francia, Coppa di Lega, il PSG, quarto trofeo, il Lione finisce, K.O. ai rigori, il Lione è la prossima avversaria, è l'avversaria della Juventus più che prossima perché l'andata sarà già giocata in Champions, ha vinto il Lione all'andata, adesso si giocherà il ritorno alla ripresa delle Coppe Europee dopo il termine del campionato. Qui siamo invece sul Corriere dello Sport, voglio la Champions, la Juve festeggia lo Scudetto contro la Roma ma già pensa al Lione, Agnelli avvisa Sarri a lanciapirlo, è il tecnico del futuro, l'annuncio di De Laurentiis, benvenuto Victor Osiman, blitz da 80 milioni per il Napoli che si assicura dal Lille, questo attaccante molto 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 forte, promettente, ancora promettente perché è stata pur sempre di un giovane, Messi in black, testimonial del nuovo Barcellona, la Milano nerazzurra sogna Leo ma la Pulce presenta la maglia, la trasferta 20-21, e ancora qui due casi scuotono l'Atalanta, Brozovic scuotono l'Inter e l'Atalanta, Brozovic furiosa l'Ital pronto soccorso ed invece Ilicic che scappa a casa, Silveston, la Ferrari va meglio, buona notizia dai motori, Leclerc quarto tempo nelle libere, Lewis si nasconde, alle 15 si corre per la pole position e poi ciclismo sul sipario, oggi avvia la stagione con le strade bianche, intoppi invece per quanto riguarda la Sanremo, questa è la prima del Corriere dello Sport. Prima di chiudere la nostra rassegna andiamo a dare uno sguardo all'autostrada, sono le 7.31, vediamo se c'è qualcosa da segnalare, ci sono come sempre segnalazioni per quanto riguarda alcuni lavori, in questo caso vediamo che non ci sono avvisi sulla A4, c'è un avviso sulla A28 e poi un altro nei pressi di Duino e dunque per quanto riguarda le strade e autostrade la situazione è dal punto di vista anche dei cantieri per quanto riguarda questo weekend libera, vediamo alcune immagini, qui siamo sul bivio A4, A23 in direzione Milano, il bivio di Palmanova dove vediamo transitare alcuni mezzi pesanti insieme ad altre automobili, situazione del tutto tranquilla, si nota un scavatrice che sta lavorando a bordi della strada in un pezzo interdetto ovviamente alla circolazione dei mezzi, andiamo avanti, vediamo anche il tratto di autostrada della A4 sempre a gonarsi in direzione Milano dove c'è traffico, più che altro vediamo molte automobili e non troppi mezzi pesanti, comunque c'è abbastanza movimento ma nessun tipo di allarme traffico da questa immagine che arriva dalle webcam di Autovie Venete, qui siamo alla barriera dell'Isert con il transito di alcuni mezzi pesanti verso Trieste e quindi in entrata per il resto la situazione anche in questo caso sembra tranquilla con le immagini che fanno parte di una sequenza scattata alle 7 e 32 minuti e sono le 7 e 33 minuti, io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai telegiornali del mattino alle 10 e alle 12 in diretta con la conduzione di Valentina Bearzi, arrivederci e buona giornata.